Il trekking time, viaggiatori, camminatori, zingari di professione, ci troviamo, oggi vi porto a Camogli, siamo in Liguria, ci facciamo un percorso, percorso, scale, insomma tipico della Liguria, da Camogli fino a San Rocco di Camogli, in collina, poi scendiamo e andiamo a vedere il bordo, sentite tutto sto casino, Camogli è famosa per i fuochi, li fanno i fuochi d'artificio, fanno mattina, sera, pomeriggio, sentite qui, ma noi prima andiamo a San Rocco di Camogli, quindi gambe e spalla, venite con me, andiamo. Grazie a tutti. 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 Scoli a tutti. poi siamo passati dalla ruta un bel giro di 10 km ma di 10 km la scale sono abbastanza pesante quindi vi metto nella indicazione descrizione non in discrezione descrizione descrizione il link del percorso voi arrivate a Camogli e poi c'è l'indicazione per San Rocco di Camoglio quindi una bellissima passeggiata panoramica gambe e spalla alla prossima avventura mentre il maltempo arriva noi abbiamo finito il nostro gioco grazie